Buonasera a tutti ragazzi, sono Croia e benvenuti in questo nuovissimo episodio di The Walking Dead Io vi invito subito a lasciare un mi piace per questo quattordicesimo episodio Mi raccomando, supportate la serie che la stiamo portando avanti con impegno E niente ragazzi, non ho niente da dire, vi lascio subito al video che ho voglia di giocare, vai! Ok ragazzi, eravamo rimasti? Sì, che eravamo ripartiti con il treno, ci sono anche due nuovi personaggi Che, non lo so, sono un po' dubbiosa sul loro atteggiamento Mi odiano perché ho fatto cadere il tizio, gli ho spaccato la gamba, ma... Ok, non mi ricordo neanche i loro nomi, come si chiamavano? Vabbè, avrò modo di impararli Che ci dici lì? Ho notato lì un disegno E' Kenny quello Ce l'ho vedere? Non ce lo vuoi vedere Wow Questa cosa è molto triste, devo dire La prossima stop... L'Atlantico Molto triste Va bene Andiamo all'Atlantico Non so se spererai mai questa giornata Andrà tutto bene Si è messa troppo qua Andrà tutto bene E' figa, ma dove clicco? Scusate, eh, quindi Intanto Che spavento Che miseria E' un corpo mi sorpreso Come che c'è? Come che c'è? Come che c'è? Cosa è? Questa conosce Clementine? E sa che è accompagnata da lì? Questa cosa non ha senso Perché? What the fuck? È finito adesso? Perfetto, finisce così l'episodio Va bene Ok Che cavolo è questo? Ok No Il 44% L'ho convinto Ma pensa di meno Pensavo che molto di più avrebbero convinto Kenny Hai sparato a Duck Il 79% l'ha fatto Beh era giusto farlo Hai aiutato Omid Tu e il 44% Non hai aiutato Ah io non l'ho aiutato Omid Eh scusa Scusa Aiutare in cosa? Boh Andiamo avanti Eh sì Vabbò Ti te l'ho di coda Eccola Eccola Lo sapevo Lo sapevo The Walking Dead Perfetto Ottimo come inizio direi Vai Sono allergica alle attese Cominciamo subito con questo quarto capitolo della saga di The Walking Dead Siamo arrivati a Savanna Dicci un po' È Savanna questa? Scusate Andate se vorrei soffiarmi il naso però Non ce lo voglio Beh insomma Tanta gente Popolata questa strada Episodio 4 Dietro ogni angolo Ecco Già il titolo non mi piace Eh ve lo dico Ma poi quello vabbè È zoppo A posto C'è questa cavolo di Conversazione che abbiamo sentito con il tizio dei walkie talkie Ma che cavolo era? Ma che cavolo era? Clementine Lo posso reggire io? No Clementine ci nasconde qualcosa No non chiudemelo più No no Just per un po' Siamo arrivati proprio vicino a dove la mia mamma e l'opera Maybe I can Not now Clementine Maybe later ok 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 How's O'Neill? His legs pretty bad I'm fine You're not fine You need to rest He needs to rest Eh sì Dobbiamo andare avanti Kenny quanto manca? Kenny How much farther to the riverfront? There should be just a few more blocks up ahead And there'll be boats there? There'll be boats Have to be Have to be It's going to be ok Kenny knows what he's doing Bene guarda tu devi mostrare zitto perché hai fatto solo danni Maybe this city's not so dead after all Keep moving No one's ringing that bell It's automatic On a timer Ah sì? What kind of church bell goes off at 20 past the hour? Suona ai 20 minuti? Che cazzo di radio è? Someone's up there Are you sure? I don't see anything So cosa ho visto I know what I saw I'm telling you there's someone up in that bell tower Someone alive If I were you I'd get out of the street now I thought you said that thing didn't work Che cavolo è? Pronto Ma che cavolo è? Che cavolo è? Is someone trying to fuck with us? Sounded more like a warning Ask not for whom the bell tolls What are you yammering on about? Oh cavolo Zombie It tolls for thee È ovvio con la campana hanno fatto casino E i zombie ci sono svegliati Bello Affascinante questo uomo Come facciamo? Capiamo direi Io ho più con voi Così è Se hai intuto Dovrei scappare Non basta Ora Ma non è più forte Tenete Non so Accostate Non è che ti sei Ma non è che ti sei Non è che tezza Stanno andando avanti Dai Muori Oh Oddio No Kenny Aiuto E muori che vuoi? ti ho salvato? oh mamma mia ben fai qualcosa dai dai ben ben tu sei proprio un figlio di una buona madre guarda guarda la mamma mia guarda la mamma che cosa è che no oh guarda che che sia di qada nu think di altro che move you assi river street's right up a head that's not off I'll give me a fucking break wait where the hell is Chuck Nooo, mi dispiace, ha appena saluto Clementine. No, vorrei aiutarlo. Prego, possiamo aiutare Chuck? Me la cavo da solo, andate. Ah, pensavo che ci fossero spariti con una scelta. Aiuta Chuck! No, aiutarlo! Invece... Cacchio. Va bene. Eh, vabbè, ma sventila di cadere, però, eh. Ah, yeah. Va bene. Fintia. Questa tizia di colore mi sta mettendo un po' fretta a iniziare a darmi fastidio, eh. Che cacchio, stai calma, andia. Questa tizia. Per me sembra meglio di quello che ha ragione, tutto aspetta. Sennò copriamo qui. Sennò copriamo qui, ma non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Non ci prenderemo in più di tempo. Non ci prenderemo in tempo. Solo in più che siamo iniziare, ok? Ok. Grazie, man. Ma non si è fatto a domini. Ah, ho rotto le palle. Hey, non andiamo a niente. Maronna, sei fastidiosa questa tizia. Clem, tutto bene? Ma oh, no. No, non ci hanno visto. Che devi chiederemo, dicogli, se c'è di preoccuparti. Se c'è di preoccuparti. Ma non c'è di preoccuparti, ma non c'è di preoccuparti. Ma non c'è di preoccuparti. Ma non c'è di preoccuparti. Che bella storia. Fa posto? Allora, cerchiamo di aprire sta cavolo di porta, va? Mi piace Ben, mamma mia Ben se ti prendo a botte oggi. Guarda che hai te. Bravo! Ecco. Pensi che vogliamo avere questi pensi. Guarda tempo. Va bene. Allora. Qui cosa c'è? Vediamo un po'. Una tuba. Spero non riesca nessuno da qui. Allora. Vediamo se c'è qualche oggetto, qualcosa con cui possiamo aprire. Una fontana. Direi. Allora. Vediamo da Kenny. Vediamo che ci dice. Kenny? Sta a posto? Come va con la porta? Come va con la porta? Vediamo un po' in? La porta è chiudata. È troppo pesante per forzare senza fare un po' di ruolo. Talvez c'è un po' in più. Se c'è un po' in più. Se c'è, non lo vedo. C'è un po' in più? C'è un po' in più? Non c'è un po' in più? Non c'è un po' in più. Qui è un po' in più. Come va con la porta? Come va con il suo caso? E' un po' in più. Come va con la porta? Ah, ah. Che ragione? Ok. Allora. Addirittura. Lì c'è la cuccia. Posso tornare a controllare? Magari mi fa fare qualcosa. Dentro c'è il collare. Troppo bello per essere vero. È ovvio. Aspetta un attimo. Magari è morto il cane? Se trovo una pala potrei disotterrarla. Ma qui non c'è niente. Raga, ma quanto sono avanti? E io dico, ma questa ragazza c'è un po' dirigente. Raga, c'è, vabbè. Voi ce l'avete arrivati? Va bene. Speriamo ci sia il cane. È il cane. Non lo so. Senta. Clementine si sente ferita. Oppos, oppos, oppos. Scusa, Clementine. Ma che pare è un po' la possessa dell'ambulanza. Oh, Dio, il sentimento. Che schifo. Raga, ma che schifo. Ma devo toccarlo. Eh, vabbè, ma che cavolo. Cioè, ma tu devi vomitare davanti alla bambina. Che schifo. Che schifo. E vai. È stato bello. Adesso abbiamo un collare un pochino infetto. Allora, vai. Sì, ma abbiamo aperto l'assunto, poi. Come fai ad entrare? Stanno arrivando. Stai bene? Stai bene? Mamma mia, com'è volata. Top. Non farla mai più. Brava, Cleo. Allora, è seduta. Brava, Cleo. Non vorrei trattarla male, visto che prima l'ho ferita. Sì, hai fatto. Hai fatto bene. Possiamo, magari, avere questa conversazione dentro? La mia lua è iniziata a cuore come la piazza. Però è stata un po' azzardata. Sì, è ok da qui. Tutti iniziali. Vabbè, forse è stata un po' azzardata. Forse avrei fatto meglio sgridarla, perché comunque è una bambina e si sgridano. Però vabbè, la mia fia è andata bene. Dovevo dire una cosa? Mi sono dimenticata. Grande, ma è. Sono troppo forte quando penso a cose che poi mi dimentico. Allora. Scusate, scusate. No, è ok. Scusate, scusate. Stai calmo. Scusate, sento bene già solo a stare fuori miei piedi. Grazie, baby. Oh, la famiglia con il cane. Utile. È stato molto utile quel cane. Eh, ma non lo sopravvamo. Eh, ma non lo sopravvamo. L'ho scoperto solo ieri. Ma stai zitta quando parli. Ma stai zitta di la radio. Ma stai zitta di chi era qui, ringo la bellissima, e portano i morti sui. E' come, non lo sopravvamo. Non lo sopravvamo. Ma non lo sopravvamo. Ma non lo sopravvamo. Ma non lo sopravvamo. Ma che stai zitta di radio, è stato vicino per vedere nella staglia, e non lo sopravamo. Non lo sopravamo a nessuna, ma il personale in la bellissima. Perché non lo sopravvamo. e poi provi a ci spettare a ci spettare e poi provi a ci spettare quanto ci spettaccia più di più in caso che non ti senti ci sono molti ragazzi questi giorni ci spettaciano probabilmente non si spettaciano credo che ci spettaciano ci spettaciano ci spettaciano magari sei certo ma chi è che ci spettaciano ci spettaciano e non vogliono sapere chi sono non posso pensare a ci spettaciano ci spettaciano sono d'accordo con Kenny riposiamoci 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 c'era l'opzione anche di andare a cercare Chuck potevo cliccarla in effetti eh mi dispiace Chuck abbandonato lì però mi sa che ormai è andato anche Chuck il posto sembra sicuro mi sento meglio quando sappiamo questo per sicuro abbiamo bisogno di controllare la tutta casa ok ok io e me prenderemo l'opzione Lee ci sono qui assicurati di controllare ogni porta ok allora controlliamo questa casa posso aiutare? cosa se c'è un'altra porta credo che sei abbastanza aiutata per un giorno per vedere se Chris e Omi bisogna qualcosa ok 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 mi sono ricordata la cosa che me lo dimentico di dire cioè la porta no? come l'hanno aperta davvero cioè se ci pensate era sbarrata da fuori poi arriva lei che con la maniglia la apre non ha senso non ha senso cioè se è sbarrata non riesce ad aprirla cioè hai difficoltà ad aprirla anche da cioè capisci vabbè lascio stare va comunque è un mio pensiero personale nulla nulla l'acqua non funziona aspetta avevo visto acqua c'è la mano vediamo cosa c'è tutto il giro si deve fare quanto lento si va bene non sono così freddo per esempio bisogna finire per controllare le strade scusami non te lo clicco più eh aspetta c'era qualcos'altro qui da vedere anche se dubito ci sia qualcosa qua dentro si è tutto vuoto my dog Walter no mi sa che il cane è morto ancora prima che ci fosse l'infezione non lo so presumo lì aveva detto che c'era da tanto tempo che era sepolto quindi ok vediamo da questa parte vabbè non è che ci siano cose troppo interessate attento qua c'è una bottiglia ok come viene? come viene? cosa vuol dire come viene? che lingua parli zia? a proposito di questo piano della barca vediamo a proposito di questo piano della barca vediamo 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 è una casa abbandonata in mezzo agli zombie non è che siamo tutta stavortuna non ancora non ancora va bene va bene lo faccio tutti mi stai dicendo di fare questa cosa adesso lo faccio come siete di fretta allora no bisogna controllare le stanze ah no questo era lo sportello allora controlliamo queste stanze così siete tutti contenti vai dai non ce ne ho che miseria che miseria niente tutto apposito ma cos'è uno scabuzzino quello una porta enorme per uno scabuzzino seriously basta c'è tutto qui ah no si va da questa parte ok ok meno male no c'è dici c'è neanche dici vediamo il quadro una famiglia felice e ricca probabilmente abbastanza benestanti qui sotto cosa c'è quadro rotto non esattamente non esattamente mio style entriamo qua ci sono gli zombie mamma mia mamma un bagno ok controlliamo dubito ci siano cose dai vediamo cosa c'è apri tutto apposto easy non c'è niente direi di salire non c'è niente non c'è niente non c'è niente dovremmo essere ok qui per un tempo almeno fino a che si tratta di solito bene grazie è è ok è ok sì ora ma sono davvero mi preoccupi che il cuore potrebbe essere infeczata non pensi che tu abbia alcuni med mentre tu stai attraverso no solo c'è c'è e c'è qualche whisky in l'arra c'è 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 chiede Clementine se sa Non so chi è il ragazzo della radio. È ok, honey, puoi dire. Chi è? Cosa vuole? Cosa vuole? Che succede? Cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Stai qui. Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo ovviamente venerdì alle 20 con il prossimo episodio di Walking Dead e domani con un altro video. Ciao!